Sulla Croisette qui a Cannes, in occasione dell'edizione 2018 dei Cannes Lion, incontriamo all'House of PR Carola Salvato, CEO di Avas Health & You e delegata a Sorrelle alle relazioni internazionali. Ne approfittiamo innanzitutto per chiederti com'è questa esperienza qui al Festival? Un'esperienza bellissima, elettrizzante, c'è moltissimo, forse troppo, un'agenda intrisa di momenti di confronto professionale. Ciò che mi porto sempre da Cannes è il valore della relazione e il come fare ancora più networking tra di noi. Hai avuto modo, immagino, di visionare anche i lavori iscritti al Festival nella sezione PR, che cosa ne pensi? Mi piacciono molto, ogni anno troviamo un modo differente per esprimere il nostro valore professionale, quest'anno ancora di più connessione, integrazione e sinergie e quello che trovo emergere è la trasversalità del ruolo delle PR nella comunicazione, per cui sì, mi piacciono molto. Tu sei recentemente tornata dall'incontro Eubom di Budapest, che cosa hai portato a casa da quell'esperienza? Una bellissima esperienza, come delegato a Sorrelle ho avuto modo di partecipare al tavolo del confronto, ho trovato molta qualità, molta voglia di fare bene e molta voglia di creare valore insieme. A Sorrelle da sempre è in prima linea e so che il suo impegno è un impegno sincero di apertura e di confronto e mi auguro che questa cosa possa oltremodo proseguire nel tempo. I temi sul tavolo sono diversi, tra cui anche la comprensione di un ruolo che nel tempo si è evoluto e penso che questo modo di lavorare insieme sia proficuo per la nostra professione. A Budapest si è vociferata, se non sbaglio, anche della possibilità di organizzare la prossima edizione dell'evento a Roma? Non se ne è parlato in via ufficiale, si è vociferata la possibilità, credo che sarebbe una meravigliosa occasione anche per l'Italia per ribadire il nostro ruolo e la nostra volontà di essere attori in prima linea e a Sorrelle, come sempre, si dimostrerà all'altezza di questa bellissima opportunità. Qual è la tua personale interpretazione di Euboam? Che cos'è per te? Per me è l'opportunità di unire voci differenti che arrivano con la loro diversità, paesi diversi, necessità differenti ma che poi alla fine concorrono a creare un'opportunità nuova, divisione della nostra professione. Mi piace immaginare che ciascun delegato porta con sé un bagaglio conoscitivo di esperienze e di esigenze capace di stimolare intellettualmente un nuovo modo di confrontarsi e credo oltremodo che la comunicazione in questo momento abbia bisogno di un rapporto più partecipato.